Nella catalogazione data da Monaldo, questa è la seconda stanza della biblioteca. È abbastanza importante per diversi motivi, ma è conosciuta perché contiene la Bibbia Poliglotta, che è quella Bibbia scritta in otto lingue, attraverso cui Giacomo, per comparazione dal latino, è riuscito a imparare da solo il greco e l'ebraico. La lingua è forse il territorio che Giacomo ha amato di più. Prima ancora della poesia, prima ancora della letteratura, il suo ambiente erano le lingue. Ne conosceva moltissime, ne ha studiate moltissime e le paragonava moltissimo tra di loro. Per lui la lingua era un elemento primario, oserei dire corporeo e quasi erotico. Per cui quando noi lo vediamo all'opera in biblioteca, dobbiamo pensare che erano continuamente, credo, aperti sul suo tavolo soprattutto dizionari. I dizionari erano i libri che lui amava di più. Perché c'era proprio il corpo vivo della lingua. La nuda cognizione di molte lingue accresce anche per sé sola il numero delle idee. E ne feconda poi la mente e ne facilita il più copioso e più pronto acquisto. Lui era attentissimo alla conformazione delle parole, alle loro radici, ma ha un significato ulteriore per Leopardi perché si rifà alla vegetazione. Quindi tutto ciò che è lingua è qualcosa di vivente. È come un albero che è cresciuto da un seme che si è sviluppato negli anni e nei secoli e porta con sé la linfa vitale. Ecco, per Leopardi la lingua era linfa vitale, era come il sangue dei popoli, della nazione. Le parole, come osserva il Beccaria, non presentano la sola idea dell'oggetto significato, ma quando più, quando meno, immagini e accessorie. Sapeva alla perfezione il latino, meno ovvia è la sua conoscenza del greco. Il greco è stata per lui una lingua innanzitutto segreta. Segreta perché non era conosciuta da nessuno dei suoi familiari e dei suoi precettori. Nello Zibaldone, la sua grande opera filosofica, alcune frasi sono scritte in greco. Perché? Per non farle decifrare da chi poteva magari trovare questo manoscritto e leggerlo a sua insaputa. Non tutti i filologi tedeschi, inglesi, i dotti, gli intellettuali sapevano il greco e sicuramente non lo sapevano al suo livello. Quindi ne comprendeva le minime sfumature e aveva una conoscenza quasi, oserei dire, madrelingua del greco. Il lessico, il suono. Io credo che sia l'intellettuale europeo che, diciamo, sia stato più appassionato di lingue e più capace di comprendere quanto la lingua ci può arricchire. Il pericolo più grande che corre ora la lingua francese è di diventare lingua al tutto matematica e scientifica, per troppa abbondanza di termini in ogni sorta di cose e dimenticanza delle parole antiche. Benché questo la renda facile e comune, perché è la lingua più artificiale e geometricamente nuda che esista oramai. Il francese era la lingua che gli era più antipatica. In qualche modo era per lui legata alla razionalità, alla modernità. Era la lingua che aveva mantenuto meno le proprie radici.